Pensiero ad alta voce, sporcizia e immondizie alle porte di Lugo di Puglia. Questa volta la colpa è nostra, questa volta c'entra poco l'amministrazione comunale, questa volta ripensiamoci, le immagini la dicono tutta, amianto e altro appena fuori del centro abitato di Lugo di Puglia. Chi deve intervenire per togliere questi rifiuti? Beh, dobbiamo intervenire noi i contribuenti, per altri che se ne fregano. Questa volta la colpa è solo nostra. Buona vita, ciao! Ciao!